è già tagliato eh infatti Giorgio esatto Ale Giorgio si chiama questa voce non il robot Giorgio grazie da cretin per la sub grazie mille caro Gab sono felice per la virginità tanti auguri Sandrin come ha fatto? eh boh durante questo periodo infatti è un po' strano beh non sarà uno che abita in zona rossa no no che l'ha fatto in generale